Visto il perdurare della crisi idrica, i consiglieri comunali di opposizione Luigi Bellavia, Vincenzo Cancelleri, Felice Dierna, Calogero Palermo, Annalisa Petitto e il cittadino Sergio Cirlinci hanno deciso di organizzare un presidio che si terrà in via Bellini tra il Teatro Margherita e gli uffici di Caltacqua per richiamare una maggiore attenzione sul problema e formare contestualmente un comitato di cittadini che effettuerà una raccolta firme da consegnare successivamente a Sua Eccellenza il Prefetto e al Sindaco per chiedere di intervenire affinché vi sia una più corretta ed equa distribuzione idrica.